Parenzo sta arrivando Eccoci qui Fra poco faremo la collection Delle lezioni di seduzione Di Davide Vichingo, lezione numero 3 Buonasera Vichingo Eccoci qui Allora Passiamo subito a una tecnica che fa parte Del filone, rimorchiare Con 20 euro, siamo in tempo di crisi Quindi è anche importante sapere Cosa hai in tasca e se ti bastano per poter uscire Con una ragazza tranquillamente Si chiama la tecnica del PR Cioè del Public Relation Bisogna andare in un bar O più bar e raccogliere qualche biglietto Di discoteche, di locali Dove fanno feste, dove ci sono Serate Piawa, serate Latinoamericano Di vario tipo di musica Poi quando si incontra una ragazza Si invita, si va direttamente Come proprio essere un PR Guarda, stasera c'è una bellissima festa in questo locale Ti va di venire E può dire Sì, no, ok Qualsiasi cosa dici Mettiamo che dica Non mi interessa la musica latina Benissimo C'è un altro locale con la musica funk Ti piace il funk e la disco music E questa è un'ottima tecnica per rompere il ghiaccio E per andare tranquilli Soprattutto si sa che i locali Come oggi Soprattutto al mare Ci sono molti locali al mare Dove si entra senza pagare Si consuma qualcosa insieme 5 euro a testa sono già 10 euro Un po' di benzina E ce la facciamo con 20 euro A passare una splendida serata E in tempo di crisi Bisogna anche sapere dove portare una donna Perché Insomma è una magra figura Non avere i soldi per raccontentare Non c'è dubbio Parenza hai capito? Io ho capito Ho capito che questo signor Davide Vichingo Se si presenta così in giro con i suoi curriculum Non troverà mai lavoro Io lo immagino adesso Dopo questa sua performance estiva alla Zanzara Che va dal signor Crippa ad esempio A Mediaset Bussa Bussa lì Ma perché da Crippa che non c'entra niente? Chi è? Sono il Vichingo Ah prego signor Vichingo Venga Va da Crippa Dal direttore generale di Mediaset Per informazione E il signor Crippa dice Come si chiama lei? Io sono Davide Davide il Vichingo Oh Signor Davide il Vichingo Oh che basta fare? Ma io guardi Faccio lezioni di seduzione L'ho anche fatte alla Zanzara E c'è caro signor Vichingo La vede la porta? Ecco La prenda subito Prende subito la porta Altrimenti la mando fuori Io Calci nel culo Subito Vichingo Ma cosa c'entra? Crippa che è il direttore di informazione Ma io fossi in Crippa Direi Signor Crippa Dici scuro È un appuntamento con il signor Crippa E chi è? Davide il Vichingo Mi aspetta il direttore Crippa Questo che c'ha mille cose da fare Lo riceve Lui Sì chi è? Sono il Vichingo E già lì Uno no Si c'era il sangue E uno Sono il Vichingo Arriva E gli dice Scusi guarda il suo cu 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 Grazie Vichingo A presto Quest'intemerata di Parenzo Allora La vicenda Ferrari La vicenda Ferrari Nasce Il Vichingo Dove è andato Ha fatto la sua terza lezione di seduzione Ti sta sulle balle E quel Vichingo Non hai neanche idea Ma perché ti sta sulle balle Il Vichingo Dice delle robe pazzesche Guardare il territorio Rimorchiare a 20 euro È un pirla Il Vichingo è un pirla Fammelo dire E va bene